come fare lo speed con post italiane quindi in questo caso fare lo speed con post ed è molto semplice in descrizione ho lasciato così la pagina che ti porterà qua su questo sito andiamo cliccare vuoi creare un post ed i ti consiglio il primo perché dobbiamo compilare parecchi moduli e poi regarci all'ufficio postale per pagare il nostro speed in questo caso come puoi vedere qui devi mettere tutti i tuoi dati quindi nome codice fiscale dove senato città tutto 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 proprio tutto qua devi inserire e poi una volta fatto devi scendere fino a giù fino a trovare proseguito prosegui ti dirà di mettere un email mi inserisci così un email un email tua google email di google hotmail qualsiasi email perché l'email è molto importante sul post id poi devi verificare l'email quindi per via email ti manderanno un codice otp da inserirla sopra e poi assieme alle mail devi creare una password la password è molto importante perché la password ti servirà accettiamo tutto il contratto è qua come ho detto la password è importante tu metti la password qua fai conferma e hai creato così il tuo post id e ora come funziona una volta creato il post id devi legarti all'ufficio postale con un codice che ti manderanno per via email quel codice che ti mandano per via email è molto importante tanto ci metteranno un'ora per inviartelo per via email e quel codice dovrai usarlo all'ufficio postale quindi tu devi recarti all'ufficio postale devi far vedere all'operatore questo codice fai vedere tutte le tue credenziale quindi devi andare la con una carta d'identità una tessera sanitaria e il codice che ti hanno mandato così facendo loro ti abiliteranno quindi te lo abilitano il post id con lo speed e hai fatto quindi hai creato l'email hai creato la password ti hanno abilitato lo speed e potrai accedere al tuo speed su post id che troverai direttamente sul play store basta che vai su play store sul telefono scrivi post id entra in post id e fai su accedi e metti quelle credenziali che hai creato qua sopra email e password mi raccomando la password è molto importante quindi devi ricordartela devi salvarla da qualche parte perché la password è importante quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao